Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Ancora un rinvio per il processo Rigopiano. Durante l'udienza preliminare i legali degli imputati hanno presentato nuove perizie, così il GUP ha deciso di aggiornare l'udienza al prossimo 25 giugno. Il servizio è di Stefano Recanati. Ancora un rinvio, l'ennesimo per il processo Rigopiano. Il giudice per le indagini preliminari Gianluca Sarandrea ha aggiornato l'udienza al prossimo 25 giugno. A far pendere la decisione da questa parte sono state le nuove relazioni, molto corpose, prodotte dai legali degli imputati. Una, quella più sostanziosa, riguarda l'origine della valanga e la prevedibilità dell'evento, ovvero la correlazione con il terremoto. L'altra invece riguarda la gestione dell'emergenza presentata dai legali degli impiegati prefettizi Provolo e De Cesaris. Un'altra perizia, la terza, invece è stata presentata dagli avvocati che difendono gli imputati della provincia di Pescara e questo riguarda la gestione dei soccorsi in relazione all'utilizzo dei mezzi. Qui dobbiamo sempre precisare che Sabatino Bonnaggio non era dirigente, era un funzionario, quindi i poteri veri di gestione e di attività nell'ambito della soluzione delle valanche doveva essere fatta da chi aveva il potere vero. Sabatino Bonnaggio poteva soltanto sollecitare e abbiamo prodotto tutta la documentazione che dimostrava quello che aveva fatto in tutti gli anni che ci stavano lì in quel ruolo. Rabbia invece per i familiari delle vittime a cui questo rinvio non è andato proprio giù, anche se questa ipotesi era molto prevedibile. Dello stesso umore anche i legali delle parti offese, i quali però prendono atto della decisione del giudice, pur ribadendo il fatto che a causare la tragedia sia stata una gestione errata dell'emergenza. Così il gioco va avanti fino a quando? Io questo mi chiedo, non c'è un termine mediante il quale a un certo punto bisogna stoppare tutto e cominciare a fare sul serio? Oppure andiamo avanti così aspettando che ogni volta, in ogni udienza c'è un avvocato della difesa che presentano dei documenti che poi hanno bisogno chiaramente di poter essere visionati e purtroppo si parla sempre di mesi. Lo scopo è chiaro, è far saltare le perizie del Pubblico Ministero. È giusto, è corretto perché poi fa parte del diritto di difesa andare a affrontare questa vicenda. Certo che senza copia, senza niente, cambia il processo. Oggi si tenta di cambiare il processo e non sappiamo come. Sicuramente qui vi è una tendenza di andare a dire che la colpa è della montagna. La realtà è una sicura. Le persone volevano andare via e non sono potute andare via. Se di fronte a un'emergenza neve chiudono le scuole, ma non si chiude un albergo che sta in fondo a una potenziale pari ad abiliardo e poi tutti devono andare assolti, ne prenderemo atto. È l'Italia purtroppo, è la giustizia, il sistema giudiziario lo capisco, tante volte sono anche dall'altra parte. Non è quello che mi piace per le famiglie delle vittime. Sul fronte Covid scende ancora l'R Conti nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore R Conti è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. Tutte le regioni e province autonome sono classificate a rischio basso e tutte hanno un R Conti medio inferiore a 1 e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1. Soltanto la provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta di resilienza. Nessuna regione o provincia autonoma riporta molteplici allerte. Lo rileva il monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Italia, attualmente all'esame della cabina di regia. Sit-in dei sindacati di base del settore sanità questa mattina a Pescara per rivendicare il diritto al lavoro e cure sanitarie per tutti. Paolo Renzetti. Più che promesse che non sono state mantenute, noi siamo venuti a denunciare in questa giornata, che è la giornata di sciopero nazionale del nostro sindacato della sanità pubblica e privata, siamo venuti a denunciare lo stato di incertezza che continuano a sentire sulla propria pelle centinaia di lavoratori che sono assunti dalle ditte e dalle aziende private che gestiscono gli appalti dei servizi osse ausiliariato all'interno delle asle abruzzesi. Parliamo di professioni sanitarie, ma non solo perché rientrano anche magazzinieri e quant'altro, che appunto vivono l'incertezza soprattutto oggi con la prossima scadenza degli appalti al prossimo 30 maggio, quindi alla fine di questo mese. Noi chiediamo all'assessore Verì di farci sapere qual è il futuro occupazionale di questi uomini e di queste donne che nel corso della pandemia si sono sacrificati al pari e al fianco del personale strutturato ASL, ma con tutele contrattuali diverse, sicuramente inferiori e anche con salari inferiori, con part-time, tutti quanti con contratti part-time, insomma una situazione che anche organizzativamente per le strutture nostre ospedaliere non è di facile gestione, appunto in un momento che invece dovrebbe insegnarci come sia necessario rimettere in piedi il sistema pubblico e questo lo si fa anche valorizzando il personale che oggi lavora all'interno delle strutture ospedaliere ma che vede il proprio futuro incerto, come il personale che lavora negli appalti ma anche il personale delle agenzie interinali o i precari ASL a tempo determinato. Ecco sostanzialmente anche appunto con la giornata di sciopero nazionale noi denunciamo anche al governo come sostanzialmente non si possa continuare a sorreggere la sanità pubblica anche e in alcuni casi per la maggiore con il precariato. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina al commissario di governo della ZES come tale al Presidente del Comitato di Indirizzo del Professor Mauro Miccio perché la nomina del commissario divenga pienamente operativa occorrerà attendere la bollinatura della Corte dei Conti che mediamente impiegherà circa due mesi. Inoltre per completare il Comitato di Indirizzo il governo dovrà ancora individuare un rappresentante espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno espresso dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Ringrazio la Ministra Carfagna per aver mantenuto l'impegno a fare presto per la scelta del commissario dichiarato il Presidente della Regione Marsilio dopo lo stallo di 7-8 mesi del precedente governo e per aver individuato un profilo di altissimo livello che sono certo darà all'Abruzzo un contributo determinante per il successo della zona economica speciale. Lunedì 24 maggio a Pescara, Palazzo di Città, il sindaco Carlo Masci incontrerà i rappresentanti sindacali per parlare della questione naia di torna in auge anche il possibile percorso del project financing. Vediamo. Continuo a tenere banco in Abruzzo, nella nostra regione, anche a Pescara, la questione naia di le sindaco vuole andare avanti, siete determinati a prendere in gestione questo impianto e lei per lunedì ha convocato i sindacati che avevano chiesto tra l'altro un incontro proprio per parlare di questa situazione e per arrivare effettivamente alla possibilità di una riapertura immediata delle naia di. Allora intanto diciamo che il Comune di Pescara è disponibile a prendere in gestione le naia di nella misura in cui la regione dovesse dirci prendete in gestione le naia di perché la regione sta facendo le sue valutazioni, è proprietaria dell'impianto, c'è un contenzioso con Lati che ha gestito l'impianto fino a qualche mese fa e la regione lo sta risolvendo. Abbiamo avuto la settimana scorsa un incontro con la regione che ha chiesto due settimane per verificare se il project che gli uffici stanno valutando possa essere portato avanti e in quali tempi e in quel caso la regione è pronta anche a riaprire l'impianto senza coinvolgere il Comune e in quel caso noi tranquillamente accetteremo le decisioni che la regione prenderà perché a noi interessa che l'impianto riapra, che l'impianto funzioni e quindi siamo a disposizione di chi proprietario dovesse dirci prendete in gestione l'impianto per farlo funzionare. Noi ci siamo, a qualsiasi momento siamo pronti e aspettiamo. Per quanto riguarda l'incontro con i sindacati me lo hanno chiesto, io non rifiuto l'incontro a nessuno, sentirò le loro ragioni, ovviamente mi farò parte di di gente per trasferire eventuali richieste in regione ove dovesse essere la regione aggersi l'impianto. Invece nell'ipotesi in cui dovessimo essere noi come Comune quelle richieste farò in modo di esaudirle per quanto possibile perché ovviamente dobbiamo essere sempre dentro procedimenti amministrativi che abbiano la massima trasparenza, ma oggi un incontro con i sindacati che me lo hanno richiesto è doveroso oltre che auspicabile. Ieri è stato inaugurato nell'area di servizio Tre Confini nei pressi del casello autostradale Carsoli-Oricola il primo erogatore di metano liquido GNL nella provincia dell'Aquila. Presente anche l'assessore regionale Liris che torna anche sulle polemiche circa la riperimetrazione del parco Sirente Velino. Vediamo. Un altro centro per quel che riguarda la politica green delle aree interne, parliamo del secondo servizio di GNL metano inaugurato in regione Abruzzo, questo è il primo però della provincia dell'Aquila, un investimento importante che viene dall'alto. Questo è un investimento che vede protagonista la provincia dell'Aquila, le aree interne, in particolar modo la Piana del Cavaliere, ma da lustro a tutta la regione proprio per la capacità che avrà questo tipo di centro, innanzitutto di mandare un messaggio come dicevi bene green di risparmio di carburante, ma soprattutto anche di maggiore efficacia ed efficienza. il fatto di avere gas naturale liquido, quindi abbiamo metano per gli autotrasporti pesanti, diventa un modo per agevolare spostamenti e chiaramente trasporti, ma farlo in maniera intelligenza e con rispetto dell'ambiente, andando incontro a quelle che sono le nuove esigenze e i nuovi patti che sono anche presenti nel PNRR, ormai nel Recovery Plan si parla di investire sull'energia, energie rinnovabili e comunque sull'ambito smart e l'ambito green. L'Abruzzo, la provincia dell'Aquila in questo caso sono avamposto, avanguardia e sono protagonisti. L'Abruzzo viene descritto sempre come regione più verde d'Europa, ha questo obiettivo, la regione dei parchi, è ancora vero questo concetto? È un concetto più vero che mai, soprattutto perché sappiamo che il verde, le parti più belle del nostro Abruzzo interno sono elementi che valorizzano la natura, che valorizzano le aree interne, che valorizzano il turismo, è un determinato tipo di turismo di chi ama l'ambiente, anche da questo punto di vista è importante distinguere chi si definisce un integralista a livello ambientale e chi ama l'ambiente perché lo vive. Io senza entrare nelle polemiche, in particolar modo se c'è un riferimento vellato nella domanda a quello che è stato il progetto di ripetere la relazione del parco, credo molto di più in quel tipo di amore nei confronti dell'ambiente che è portato avanti dalle persone che lo vivono, quindi da coloro che ritengono l'antropizzazione dell'ambiente un fattore non ostativo all'amore stesso dell'ambiente, bisogna trovare il modo per far vivere le aree più belle del nostro Abruzzo, le aree più belle sono quelle verdi in questo caso, ma non evitando l'antropizzazione, quindi un connubio e una sintesi di posizione tra quelle che sono le esigenze di chi vive l'ambiente e l'ambiente stesso. Come è cambiata la vita delle donne con la pandemia? Una domanda alla quale si propone di rispondere l'indagine condotta da provincia e Università di Teramo attraverso un questionario cui si potrà rispondere anche online aderendo alla campagna di comunicazione sociale della provincia sul sito ufficiale o sui social. Vediamo. Come servizio pari opportunità della provincia, che è un servizio, funzione fondamentale peraltro dell'ente provincia e che è deputato a effettuare un controllo sui fenomeni discriminatori non solo in ambito occupazionale, ma un po' in tutti gli ambiti, abbiamo ovviamente raccolto questa iniziativa fortemente voluta dalla consigliera di parità Beta Costantini e svolta in collaborazione con l'Università di Teramo, con la professoressa Vardanega che è un'esperta sociologa e statistica che ovviamente ha predisposto il questionario. L'idea di realizzare questo monitoraggio donne Covid-19 serve proprio a vedere come il Covid è impattato sulla condizione femminile. Ci sono già una serie di indicatori che rilevano come in realtà proprio nell'universo femminile si possa parlare di recessione a causa della pandemia che ha evidenziato i punti fragili che già erano noti e presenti, appunto dal divario salariale, dalla perdita dei posti di lavoro, lasciamo stare la parte della violenza domestica che è fondato ormai certo che purtroppo abbiamo e che è aumentato e quindi l'iniziativa che peraltro abbiamo svolto sul territorio provinciale anche grazie alla collaborazione delle comunità montane, degli ambiti sociali, dei centri impiego, delle associazioni di categoria, insomma delle parti sociali che unanimemente ci hanno fornito disponibilità, cercheremo di realizzare questa indagine a tappeto per avere dei dati da elaborare grazie appunto alla professionalità della professoressa Vardanega per individuare quali sono le azioni positive da porre in essere per garantire quello che deve essere un contesto più equo, più giusto, più dignitoso e più rispettoso dei diritti di tutti. Si è tenuta questa mattina la presentazione della linea Mare-Monti-Treno Storico che da giugno partirà da Montesipano fino ad arrivare a Roccaraso, il servizio. Il treno Mare-Monti diventa realtà, la partenza da Montesilvano, l'arrivo a Roccaraso, un importantissimo veicolo turistico per la nostra regione e per la città di Montesilvano. Un'importantissima iniziativa non soltanto per Montesilvano ma io direi per tutto il territorio regionale e si fa un gran parlare della forza della nostra regione per quello che riguarda la vicinanza tra Mare-Monti che consente a chiunque di raggiungere in giornata, di vivere il mare e montagna, noi con questa iniziativa abbiamo concretizzato quello che da sempre è uno slogan della nostra regione e a partire dal 27 giugno ci saranno delle corse della Mare-Monti e della Transimperiana d'Italia che partiranno per la prima volta da Montesilvano e diventeranno delle corse turistiche che consentiranno ai cittadini ma soprattutto ai nostri turisti di vivere appunto il mare, la montagna e i territori di Montesilvano e di Roccaraso attraversando il tragitto e godendo delle bellissime realtà del territorio. Sicuramente per Montesilvano e Roccaraso ma io direi per tutto l'Abruzzo perché è il primo segnale concreto di una offerta turistica che unisce le bellezze che abbiamo quindi la montagna e il mare. Bisogna fare i complimenti all'amministrazione di Montesilvano per aver avuto questa lungimiranza per tutti gli operatori turistici, io spero vivamente che possa essere la partenza di un treno che non possiamo perdere, il treno dell'unione di questi territori tra introterra e mare e dobbiamo avere la forza tutti come regione di mettere da parte i campanili e di offrire dei pacchetti turistici come regione e questa è la prima iniziativa. Siamo orgogliosi, questo aspetto e questa iniziativa ci inorgoglisce perché finalmente da Montesilvano con quattro date diverse partirà questo treno chiamato Mare e Monti alla scoperta delle bellezze interne del nostro Abruzzo. Da Montesilvano accoglieremo i nostri ospiti turisti montesilvanesi e da qui partiremo alla scoperta dell'entroterra facendo conoscere Roccaraso. Stiamo già arricchendo il servizio anche con dei servizi ancillari, accessori quindi forniremo un'offerta a 360 gradi per ogni tipo di esigenza. La pagina dello sport, ieri sera il Pescara ha annunciato la permanenza di Leian Memusciai anche per la prossima stagione. Insomma l'ipotesi repulisti si conferma tutt'altro che è semplice da perseguire il servizio. Si fa presto a parlare di repulisti in casa Pescara dopo l'ultimo disgraziato biegno. Le intenzioni poi si scontrano con la realtà. Nella serata di ieri la società con una nota ufficiale ha annunciato che Leian Memusciai resterà bianca-azzurro anche nella prossima stagione. Il nodo dei contratti è un fardello per la società. Il centrocampista albanese è legato al club bianca-azzurro fino a giugno 2023 con uno stipendio importante anche per una Serie B. Insomma non è un calciatore facile da cedere. In tempi di pandemia, tenuto conto che lo stesso Memusciai si avvicina alle 35 primavere e che è reduce da un paio di operazioni nelle ginocchia nell'ultima stagione. La prima poco dopo il play-out col Perugia che ne ha fatto ritardare la preparazione. La seconda ad inizio aprile che ne ha decretato la fine anticipata di un campionato nel quale ha collezionato 21 presenze con un solo gol e un solo assist, statistiche al minimo in carriera con la maglia bianca-azzurra indossata per sei stagioni. Memusciai ha dato tanto al Pescara in passato, anche se qualcosa si è inceppato nell'ultimo periodo. C'è un momento particolare, dicembre 2019, lo screzio di Livorno con l'allora allenatore Luciano Zauri, il cui strascico si ebbe due partite dopo con le dimissioni dello sesto Zauri che lasciò la panchina con parole sibilline. Da allora anche il rendimento di Memu è sceso sensibilmente e sempre da allora si sono innescate delle dinamiche con cui i successivi allenatori del Delfino hanno dovuto fare i conti senza che la società sia riuscita a governarle e che in parte spiegano la doppia retrocessione sul campo di un organico tutt'altro che scarso. Nella nota il Pescara ha ringraziato Memusciai per aver rinunciato alla mensilità di giugno e lo ha invitato a proseguire il percorso di recupero per averlo pronto alla ripresa del campionato. Resta ora da vedere come saranno gestite anche le altre posizioni contrattuali attive senza contare i rientri dai prestiti. Fiorillo, Scognamiglio, Sorensen, Drudi, Valdifiori, Busellato, Galano sono giocatori dei contratti onerosi e sono, Busellato a parte, le principali delusioni di questo campionato. Il compito principale della dirigenza, a proposito quale, visto che il presidente Sebastiani deve sciogliere ancora il nodo della direzione sportiva, sarà quello di arrivare ad una loro cessione per ricostituire un gruppo nuovo col quale tentare la scalata alla Serie B. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, l'operazione non sembra così semplice. Allora la Serie D, l'allenatore del Pineto Marco Pomante elogia la sua squadra, capace di vincere in rimonta sul difficile campo di Vasto Girardi e conferma a questo punto di guardare alla zona a playoff, una zona sempre più vicina. Sì, una vittoria importantissima su un campo difficile con una squadra organizzata che gioca bene a calcio. È stata una partita difficilissima perché il primo tempo abbiamo sofferto, soprattutto per errori nostri e siamo stati fortunati perché il Vasto Girardi non è stato bravo nel chiudere la partita. Poi nel secondo tempo è venuto fuori la nostra qualità e il nostro carattere e abbiamo, penso, meritato la vittoria. Nei rispogliatori cosa ha detto ai suoi ragazzi dopo aver giocato comunque un buon primo tempo? Ripeto, perché noi al primo tempo non abbiamo fatto male, abbiamo fatto bene. È normale che al fine primo tempo mi sono arrabbiato più che altro per l'atteggiamento perché abbiamo sbagliato dei passaggi un po' facili, abbiamo avuto delle scelte di gioco errate che hanno permesso al Vasto Girardi di creare delle occasioni da gol. Sinceramente una squadra come la nostra non si può permettere questi errori perché questa è una squadra con molta qualità e poi si è vista nel secondo tempo la nostra forza e siamo stati bravi, come ho detto prima, a ribaltare il risultato. State scalando position in classifica, dove si potrà arrivare a tuo avviso? È normale, noi spero sempre di arrivare più in alto, noi ci guardiamo sempre avanti e adesso penso che l'obiettivo pre-off è altri punti e ci proveremo fino alla fine. Sappiamo che sarà difficile perché adesso ci mancheranno tante partite, tutte quante ravvicinate, quindi c'è anche da gestire la fatica, però è una cosa importante che mi permette anche di alternare tanti giocatori. Cambiamo ora disciplina, parliamo di ciclismo, intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Velo, l'ex campione del mondo di ciclismo Francesco Moser, tra le altre cose ha parlato della condotta al Giro d'Italia dell'Abruzzese Giulio Ciccone ed ha ricordato la figura di Pietro Sibiglia per il quale ha corso nella squadra della Gis Gelati dall'83 all'85. Abbiamo visto che Nibali è attaccato in discesa, forse volevano provare questo attacco, però insomma non lo so, forse farebbe meglio correre dove corrono i migliori perché dopo andare troppo allo scoperto non è semplice in una corsa come il Giro d'Italia. Dopo non so, saranno magari i direttori sportivi che li consigliano, io non lo so, ma non mi pareva che era l'occasione oggi di rischiare nel bagnato, sono anche caduti dopo. Comunque ognuno la corsa la fa come vuole. Ma queste possono essere ingredienti che per il momento non gli danno ancora la possibilità di contendere una maglia rosa, cioè di essere magari nelle prime posizioni ma non di arrivare al primo posto? Questo, lui nelle corse a tappe ha fatto delle vere cose perché aveva vinto la maglia degli scalatori due o tre anni fa, però da lì a vincere il Giro ci sta molto in mezzo, dovrà fare anche esperienza, speriamo che cresca e che possa prendere il posto di Nibali perché ormai Nibali può fare delle belle corse ma è difficile che possa vincere il Giro. Ci fa un ricordo del commendatore Sibiglia? L'ho conosciuto al corso tre anni con la GIS e mi ricordo quando andavamo giù nel suo ufficio che era lì, non quella fabbrica nuova, quella vecchia lì a Giulianova che era dentro in questo piccolo ufficio e sempre fumava, lui accendeva una sigaretta con l'altra e io mi dava anche fastidio il fumo perché non l'ho mai fumato, ma insomma bisognava, adesso credo che uno come lui non potrebbe anche girare per la strada come fumava, ma però era un grande appassionato perché l'ha fatta per diversi anni, la squadra prima con altri con lui, poi con me, insomma e dopo ho un ricordo quando io avevo smesso di correre e ero andato a una festa e c'era anche lui e lui aveva preso il pescara a calcio, non so se vi ricordate, voi che siete di laggiù ve lo dovete ricordare e all'inizio era tutto entusiasta di questo calcio, ah questi del calcio fanno questo, fanno quello, altro che il ciclismo, però dopo un certo punto voleva dargli al pescara e nessuno lo voleva più. Chiudiamo con il punto del weekend per quanto riguarda il calcio a 5 e la palla a volo, per il calcio a 5 l'unica formazione abruzzese ancora in corsa, il Montesilvano giocherà gara 1, valevole per la semifinale Scudetto, domani alle 20 al palarigo piano di Pescara contro le milanesi del kick-off, gara 2 a campi invertiti e in programma alle ore 20 di mercoledì 26 e per quanto riguarda la palla a volo, anche per il volo abruzzese in Lizza una sola formazione, pure questa femminile, l'altino, le rosso-blu del presidente Papa ospiteranno in gara 2 le marchigiene dello Iesi, già battute 3 a 0 all'andata, domani al Valle Anzuca di Francavilla alle 18.30, in caso di vittoria il sestetto allenato da Luca D'Amico se la vedrà con il Sant'Elia o con l'Imola nel turno successivo dei play-off per la A2. E finisce qui l'appuntamento con il TG6, tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it, prossimi appuntamenti con la nostra informazione i TG6 delle 19 e delle ore 23, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!